Allora, ho sentito quando ha relazionato prima, quando ha ricevuto il premio, lei parlava in termini estremamente fiduciosi sull'accoglimento da parte del governo italiano delle sue tecnologie, cioè le parlava in termini positivi, come se ci fosse già un aggancio, ci fossero delle risposte, è così. Abbiamo dato la tecnologia al governo italiano in modo che nei prossimi tre mesi questa sia disponibile per il pubblico. E abbiamo avuto dei contatti per fare in modo che questa tecnologia venga divulgata a livello scientifico e non a livello di pubblico per il pubblico. Questa tecnologia è un coltello con doppia lama, quindi può essere usata in un modo e nell'altro. E se tu la usi in malo modo, ti puoi fare molto male, o comunque può fare molto male, e se invece la usi nel modo giusto usandola bene invece avranno beneficio sia le popolazioni che il governo. Lei quindi ha grande fiducia nei governi? No, ma voi avete eletto i vostri governi. Voi li avete eletto, è così che li avete eletto. Voi li avete eletto. Voi li avete eletto, non noi. Così, come sempre, diciamo, non diamiamo la tecnologia ai governi. Diciamola ai governi per accettarla per le persone. Voi avete scelto i vostri governanti che ora sono nelle condizioni di avere la tecnologia perché loro hanno il potere di poterla dare ai propri cittadini. I governanti hanno un po' più pubblico perché abbiamo già dato i patent negli ultimi cinque anni e sono disponibili per tutti i governi. I governi che hanno questa tecnologia hanno leggermente di più rispetto a quello che è di dominio pubblico e l'unica cosa che hanno è i progetti dei sistemi Magrav. Io non ho dato quindi niente al governo ma io ho dato tutta la tecnologia al vostro governo. Alcuni stanno prendendo dei pezzi dal totale delle informazioni che sono state rilasciate. Vedremo nei prossimi 12 mesi quello che i governi decideranno se avere tutto, sviluppare tutte le parti di questa tecnologia o solo una piccola parte, quella che loro interessa. Un'ultima domanda poi non voglio monopolizzare. Che ordine di investimento è necessario? Se vuoi lo puoi fare con 10 dollari, 9 euro. Ma i governi possono spendere anche milioni per farlo. La bellezza di questa tecnologia è che le nazioni più povere possono svilupparla un po'. E mentre invece gli europei potrebbero voler sviluppare una macchina molto bella, dare un bel design, però fa la stessa cosa. Noi siamo al corrente della situazione ambientale in Italia. E ho impiegato semplicemente due minuti a spiegare alla vostra gente come sarebbe semplice risolverli. La reason being, la reason being, we have only brought to our attention, as scientists, what we deliberately missed, we wanted not to understand. Questo è tutto. I scienziati, deliberatamente, ma non capiscono un pezzo del lavoro dell'Universo, hanno fatto il resto molto difficile di capire. Ora che abbiamo capito quella gara, che è come la gravità è creata, il resto è facile. Allora, questa tecnologia, cioè gli studi che ha fatto il Minister Keshe, sono, riguardano una chiave fondamentale, che è come la gravità si forma. Attualmente il mondo accademico ha fatto un grande, come possiamo chiamarlo, investimento, un grande rivestimento di tutto quello che è la scienza, ma il principio base è molto semplice, ed è quello sul quale io sto indagando. I explain to you very simple way. Up to now, we only thought the only magnet is for iron. Noi pensiamo fino ad oggi che l'unico magnete naturale è il ferro. Now that we understand the structure of the plasma, ora che abbiamo capito come funziona il plasma, we can make magnet for any material, e possiamo quindi costruire un magnete da qualsiasi materiale. So, what this means? it doesn't matter if the pollution is a metal. Questo significa che non è importante se il veleno, il pollution, l'inquinamento proviene dal metallo, come in Italia, o un radioattivo come a Fukushima. Now we understand each plasma... Excuse me, is there a discussion going in the back? Now we understand how to create a plasma which has the characteristics of the material. So, we want to be wood? You can make a magnet of wood now. You can make a magnet of wood now. And now we can make a magnet of wood. So, if you want a magnet for plastic, we do the same. If you want a magnet for plastic, we can do the same. We show the magnet for plastic on our website, as a video, Nel nostro website c'è un video in cui vi fa vedere appunto come funziona un manete per la plastica. Ma come stavo spiegando prima ai vostri ufficiali governanti uomitolici? Se tu vai a analizzare il problema che avete nel sud Italia, scopriremo che poi ce ne saranno di nuovi problemi. Perché le persone che vivono intorno a questa fabbrica si sono adattate e hanno preso questi veleni e si sono in qualche modo adattati a quello stato inquinato. Quindi se tu adesso togli uno degli inquinanti, l'organismo risponderà creando un altro tipo di problema. Quindi devi lavorare per una decina d'anni per poter togliere di volta in volta tutto l'inquinamento che può venire da questa situazione. Non è stata una sola volta che ho offerto la tecnologia anche al Giappone nel caso di Fukushima. Noi l'abbiamo offerta il domenica dopo l'evento al governo del Giappone. Questo è il modo, infatti, lo stesso meccanismo con il quale possiamo creare materia all'interno di una ricetta spaziale. Qualcuno di voi forse non ha ancora ben chiaro che la Cash Foundation è proprio di tutto un'agenzia spaziale. E quindi come tale noi dobbiamo pensare a tutti gli aspetti che possono essere utili all'interno di una navicella, quindi dal cibo, l'energia, la materia e così via. E quindi quello che noi abbiamo studiato è tutto applicato alla tecnologia spaziale. Adattato alla terra. Grazie. Lei aveva detto in precedenza che noi abbiamo scelto i nostri governi, ma in realtà in Italia non è proprio così. Soprattutto adesso. Questo è molto facile. Soprattutto in questo modo, sono un scienziato, non lavoro con i politici, ma devo vivere con loro. Voi scelgo e io vivere con loro. Quindi devi scelto una buona cosa. Io sono solo uno scienziato, non sono un politico, voi l'avete scelto in qualche modo, vedete. Però con le sue ultime dichiarazioni mi è sembrato che lei non avesse molta fiducia nei governi. Quando ha detto che... Can you explain yourself? Ha dato un ultimatum ai governi, dicendo che se non avessero utilizzato e dato alla gente questa tecnologia, lei l'avrebbe data direttamente alle persone. Mi conferma questo? Mi sembra che tu sei una settimana... Mi sembra che tu sei una settimana... Tu sei avanti con le relazioni di... È in ritardo? È in ritardo, you are late... È in ritardo di una settimana. Sì, è in ritardo di una settimana. Abbiamo iniziato il programma... Abbiamo iniziato il programma... che ci sono ai scienziati del mondo attraverso il forum della Keshe Foundation. Quindi se manca come a un forum di Keshe Foundation... Beh, il sguardo delle studiare del mondo hanno costruito i prototipi di che stanno costruito... Carmi ci sono ammai investimenti... ... e delle quali investimenti e cosa è il problema. Quindi abbiamo studiato il mondo dell'impianto di montare il mondo dell'impianto del mondo. in conjunction with the world scientists from all over the world. The scientists have built their systems according to their patterns. And these scientists have built their systems starting from the blueprint. Yes, what is in the pattern? So, what they cannot do or what they assess they want to do or what the problem they have with their reactors, they put on the forum and I have started answering them step by step to guide them through and other scientists around the world are reading it. So, we have started teaching program, but for the people who understand the process. These people can exchange information, and through these forums where they can meet these people, and, in that case, all of them read, all of them read, all of them read, all of them read, all of them read. So, the teaching has already started, quindi il processo è già cominciato. Quindi, sta già bypassando i governi. Noi non è questo il concetto. Noi non è questo il concetto. al 하는 band del marzo non è questo. Noi non è le risponde per controllare la xiazza i governi. Mi sono perso. Eno! Ebbè stiamo informando i governi su cosa stanno perdendo. Alcune cose le devono scoprire in qualche modo. So, I tell you something very historical, when we submitted the first patent to the European patent, we were requested to go to World Patent, European Patent, in Dunheg. C'era stato chiesto di andare ad Laia per l'ufficio brevetti e abbiamo dovuto spiegare la tecnologia a tre fisici nucleari come commissione del brevetto internazionale. Due di questi scienziati erano italiani e uno inglese. In 20 minuti loro hanno affermato che le scoperte non erano valide. E quando siamo andati al Borde internazionale l'incontro è durato due ore e mezza. E tre scienziati, tre nucleari fisiici, accettate che la scoperta è corretta. Ma il patente non può essere scritto in modo che la scoperta è stata scoperta. La scoperta è stata scoperta nella scoperta della scoperta del partner. che la scuola è completata. Abbiamo rilassato tutti questi corrispondenti che le persone non ci dicono che questo è immaginario. Possiamo dare gli italiani scientifici, gli italiani scientifici che lavorano in il World Patent Office, che hanno deciso che anche le corrispondenti, abbiamo bisogno di scrivere tutto il patente, secondo ciò che ci hanno detto in questo momento come scrivere un nuovo patente, non per essere un fenomeno naturale, ma per essere un sistema che possa essere patente. Quindi... Ok, il discorso è molto lungo, ma... Allora, una prima volta quando sono stati... brevettati con la domanda per fare il brevetto, ci è stato detto di fare il brevetto in un determinato modo, scriverlo fisicamente in un determinato modo, per poi scoprire all'interno invece della commissione dei brevetti internazionali che questo modo in cui era stato scritto praticamente non era brevettabile in quanto quello che l'ingegnare Cash ha scoperto altro non è che un fenomeno naturale e quindi ha dovuto riscrivere questi brevetti in modo da proteggere la sua idea, che però, ripeto, è un progetto, è un fenomeno naturale in qualche modo scoperto, semplicemente non è un meccanismo nuovo. C'è un problema, potete capire, stiamo parlando con un plasma nucleo a alto livello. Non tutti hanno la tecnologia e l'entrazione di come fare questa tecnologia. e dovete capire che questa tecnologia si basa su un plasma e questo tipo di tecnologia non tutti hanno la capacità tecnica e anche di conoscenza per capire e applicare questa tecnologia. e per questo stiamo sviluppando un nuovo sistema che può essere utilizzato da persone non con tutta questa bagaglia di conoscenze attraverso i governi. Io volevo ringraziare, ma volevo dire che la mia sensibilità è quella del mio blog e soprattutto umanistica. Per quanto mi riguarda, io spero che questa scoperta possa davvero, attraverso qualunque strada necessaria, portare a un cambiamento e miglioramento nel mondo molto importante e la ringrazio. Grazie mille. Grazie. Potete capire che questa tecnologia cambierà la struttura sociale del mondo. Un'altra cosa che abbiamo visto negli ultimi mesi passati è che il governo americano e l'israeliano stanno progettando di attaccare l'Iran. E a oggi ancora non è accaduto. E una delle principali ragioni per questo è l'implicazione di questa tecnologia per letteralmente pazientemente per il governo americano. Allora, stavo spiegando oggi pomeriggio che questa tecnologia... ... 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 Gli ufficiali hanno compreso il linguaggio. E così l'hanno capito che serviva per la pace. E la dimostrazione è stata, forse la notizia non è stata così diffusa ma qualcuno l'ha vista, che i droni americani sopra l'Iran sono stati portati a terra senza alcuna lotta, semplicemente intendo attorno al drone, un campo magnifico li ha portati a terra perfettamente uguale. Abbiamo informato la ditta Boeing, abbiamo informato la NASA, abbiamo informato Lucky and Martin, questa è la proprietà di questa tecnologia. E ora abbiamo visto come funzionava. E adesso abbiamo detto lasciate che la nostra organizzazione possa usare questa tecnologia per il bene dell'umanità. Perché la salute dell'energia, per esempio. Perché? 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 Perché questo punto, con questa conoscenza tutte le conoscenze militari sono totalmente obsolete. Abbiamo catturato due completamente sofisticati mezzi spaziali americani in questo ultimo anno, 12 anni. Usa la tecnologia per servire l'umanità e sono qui per fare la stessa cosa, per cominciare con l'italiano. Abbiamo accettato la chiavetta ma non è che questo vuol dire che stiamo manipolando la manifestando il desiderio di collaborare con la Fondazione Cliccia. Quindi non importa perché ora gli scienziati italiani sono in posizione della tecnologia e abbiamo deciso di cominciare il sviluppo qui in Italia molto rapidamente per i problemi che avete. Ora è il tempo per i vostri scienziati, non il vostro governo, per cominciare a collaborare con la Fondazione Cliccia. Quindi, se vedete che c'è pigrizia da parte del governo, stimolate i vostri scienziati. E probabilmente nei prossimi mesi, quando gli scienziati avranno concordato con i politici in qualche misura, estenderanno questa conoscenza al pubblico. E noi siamo aperti a distruire qualunque persone via internet. E attraverso il forum della Cliccia Foundation, voi potrete anche come privati cittadini caricare i programmi e i progetti, i brevetti della Fondazione Cliccia. Siamo qui per aiutare il vostro governo e tutti voi, non per causare problemi. Salve Ingegnere Keshe, sono Andrea Rampado, collaboro con la rivista Nexus. Mi sembra molto idiliaco la sua idea di far sì che gli scienziati si preoccupino di chiedere al governo i dati, o le informazioni che lei ha consegnato tramite l'ambasciata. I scienziati italiani in questo momento hanno altre battaglie in corso. Forse non è stato aggiornato su questo. E in questa sala ci sono anche alcuni ricercatori che hanno in corso delle battaglie. Se posso fermarti, non dare questa situazione ai politici, ma informa gli scienziati e stimola lì a informare a loro volta. E a guardare sul forum della Fondazione Cliccia. Stavo dicendo proprio questo, la maggior parte degli scienziati italiani in questo momento sono impegnati in un'altra guerra, quella di bloccare la fusione fredda o tutte le tecnologie che riguardano le trasmutazioni a debole energie. Quindi per loro già parlare di tecnologia Caccia è un qualcosa in più da combattere, non da portare avanti o da perseguire o da aiutare. Quindi la situazione è veramente diversa da come lei si immagina, Ingegner Gresh. Gli scienziati in tutto il mondo hanno lo stesso problema. Non è un'esclusività dell'Italia. Ha visto la stessa cosa con gli americani. Se pensate che gli scienziati in Italia hanno un problema, venite da me e vi spiegherò che problemi hanno gli scienziati in America. Siamo nell'era della scienza. La sola posizione che noi vediamo non è il governo sono i professori e i dottori che vedono questa cosa come pericolosa, non il governo. i governi prendono consiglio dagli scienziati. Gli scienziati che consigliano il governo sono coloro che vedono la loro posizione in pericolo. Per questo motivo noi cerchiamo di dare la conoscenza al pubblico affinché sia il pubblico a decidere. Stiamo parlando di condizioni nucleari. e coloro che hanno il consiglio da parte del governo e degli scienziati di avere il loro titolo sulla porta non devono aver paura di parlare ai maestri o di andare dal governo. devono aver paura del titolo che hanno scritto sulla porta. Ho avuto una bellissima esperienza con gli scienziati quando ho dato delle lezioni all'università della Sierra Leone che è stato il primo stato che ha accettato i suoi brevetti. il governo ha chiesto di andare nella sala conferenza non soltanto ai professori ma anche agli studenti. All'inizio del discorso i professori si stavano e hanno detto che ora non possiamo dire che non c'è una scienza perché tutti conoscono il fatto. Quindi devi fare questo con le persone in Europa e questo è quello che stiamo facendo. adesso abbiamo capito quello che succede. Sono i professori che vengono la conoscenza per sé. Let me explain to you something very serious perché questo ha effettuato la Keshe Foundation per sette anni ora. E tu sei veramente corretto. La Keshe Foundation è stata avvicinata dalla fondazione dei migliori scienziati in Belgio. in presenza di quattro scienziati. E lui ha detto, io apprezzo e confermo e accetto il 90-95% della tua conoscenza, ma la rifiuto. E hanno consigliato il governo di rifiutarsi di andare ai bifini. E il governo rifiutato. E poi abbiamo trovato che sei mesi dopo lui ha detto che se non ha rifiutato se non ha rifiutato, si perderebbe tutte le sue università per averlo. Perché loro hanno avuto la comunicazione che se avessero fatto una cosa del genere avrebbero perso il loro posto all'università. Come pensa l'ingegnere Keshe di superare questo stabile? Cioè di fatto lui si è rivolto ai governi e si è rivolto agli scienziati. Ma di fatto lui sta ammettendo che la maggior parte degli scienziati hanno paura di questa tecnologia e di fatto sono loro stessi essere i consulenti dei governi e loro stessi dicono ai governi di non presentarsi e di non fare nulla. Quindi è una fase di stabile, chiaramente. Come intende risolvere? Come intende superare questo stabile? Cioè si rivolgerà alla gente normale? Normal people? Si rivolgerà a persone che nulla hanno a che vedere con i governi e con gli stati e con le università? O ha qualche altra idea? Noi abbiamo superato questo problema? Insegnando direttamente nel forum via internet e dal prossimo mese o due faremo una presentazione dal vivo soggetto per soggetto, argomento per argomento. e da oggi o da poco ci sarà l'argomento principale in internet che non soltanto parleremo della teoria e non soltanto parleremo della teoria noi mostreremo dei video e delle sessioni di laboratorio. attraverso un server dedicato molte persone potranno entrare direttamente in contatto. Non c'è niente di meglio di questo. e voi potete imparare e insegnare a vostra volta potrete replicare l'energia, lo spazio, i materiali, tutta la conoscenza che c'è. una volta la conoscenza era nell'aula adesso è in internet dovunque. e se ci sono degli scienziati che vogliono imparare e devono andare lì anche loro. e non possiamo a quel punto incolpare i governi. la conoscenza è lì i professori sono lì l'insegnamento è lì il video sono lì se una nazione africana il Presidente dell'Università ha accettato due o quattro ore di lecce da me in regione da Belgio che potrebbe insegnare gli studenti non vedo che gli altri scienziati non vedo che gli altri scienziati non lo scusate non lo scusate i vostri scienziati voi potete farlo voi stessi se vogliamo in internet potete avere persino le informazioni riguardanti i dettagli più minimi di come costruire l'attore anche a livello di millimetri andate nel sito andate nel programma di insegnamento nel forum 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 e ci sono tutti i dettagli di come costruire il reattore di come è fatto di come funziona di come assorbe l'inquinamento non c'è alcuna ragione per cui gli scienziati che abbiano questa conoscenza non possono costruire questa cosa già domani Tom Bosco vuol dire sì Tom Bosco sempre Nexus Magazine e niente siccome un fenomeno un fenomeno naturale poco conosciuto ma attualmente esplorato e da cui stanno emergendo molte tecnologie è quello della cavitazione e ci domandavamo qui se il fenomeno della cavitazione non è implicato nella sua tecnologia nella tecnologia che lei sta divulgando non abbiamo scoperto neanche una cosa niente di nuovo non è solo cosa che abbiamo scoperto abbiamo fatto una fotocopia della Terra una copia perché abbiamo compreso la struttura interna del pianeta e così noi facciamo quello che la Terra fa crea campi magnetici e gravitazionali insieme crea la propria atmosfera e così come il Sole e la Terra hanno la loro gravitazione hanno trovato la loro posizione la stessa cosa noi abbiamo fatto con questo dato noi abbiamo copiato il cielo per fare un aereo adesso stiamo copiando la Terra un'astronave abbiamo compreso come funziona l'universo non abbiamo sviluppato una singola cosa abbiamo semplicemente ritrovato le leggi di natura come molti scienziati del passato come molti scienziati del passato e ci chiedono se è possibile fare un'interview in televisione dopo questo 10 minuti 5 minuti 5 minuti quali altre domande? ho tutto il tempo vorrei spiegare qualcosa adesso ho tutto il tempo per le persone che lavorano con internet, radio o blog perché mi ci sono venuti 10 anni di aprire la porta mi ci sono venuti 10 secondi se lo capisci per insegnare e a voi è molto più facile quindi ho dato abbastanza tempo ma allo stesso tempo non prendete il messaggio il wrong way across solo per vendere spazio vi basteranno 10 secondi ma ciò che è importante è che non diate il messaggio in modo scorretto dovete comprendere e poi darlo in modo corretto se voi usate questa tecnologia nel modo corretto creerete così tanti lavori qui che non avrete più tempo per stare a casa non dovete più bruciare benzina o qualsiasi altro sistema fossile che ormai è antiquato in un'altra presentazione solo di Mr Keshe ha fatto l'esempio bellissimo di come la terra viaggia ad una velocità incredibile senza usare benzina scusate facciamo l'ultima domanda e poi vorreste lasciare la sala in 5 minuti ecco volevo chiedere all'ingegnere allacciandomi proprio all'osservazione che ha fatto adesso se la usate in maniera corretta allora dice che con 10 euro si possono raggiungere già dei risultati dice che con questa tecnologia si possono tirare giù i droni come possiamo essere sicuri che già solo in mezzo a questa gente che c'è in sala non ce ne sia uno che possa invece usare questa tecnologia in malo modo questa è una domanda l'altra l'altra è questa volevo sapere poiché credo che ci sia dappertutto una diciamo una legge dell'equilibrio è possibile che le azioni generate da questa tecnologia non abbia diciamo degli imbalzi o dei diciamo degli effetti collaterali questa tecnologia è veramente come un coltello tu vai in negozio prendi un coltello puoi tagliare la frutta e gioire della frutta noi possiamo prendere lo stesso coltello per ammazzare un uomo noi non sappiamo quello che l'uomo vorrà fare di questa cosa ci sono effetti collaterali sì noi abbiamo compreso alcuni di questi non abbiamo compreso l'intera struttura di questi effetti collaterali gli effetti collaterali sono noi interagiamo con il plasma, maneggiamo il plasma da energia e prende energia l'energia viene definita come campo magnetico in movimento quindi quando date qualche energia ad un sistema voi cambiate il carattere del sistema e questo può aiutare per il cancro o per altre cose ma se lo usate in maniera scorretta può generare un cancro quindi una cosa che sempre diciamo abbiamo abbonato una nuova scienza che fa parte della nostra vita quotidiana e ci vorranno può essere due, tre, quattrocento anni perché l'umanità possa sviluppare appieno il contenuto di questa conoscenza e di questa tecnologia in questa tecnologia Ok, grazie Grazie Grazie.